Consegnato ufficialmente ieri al comune di Capaccio Pestum il nuovo software per scovare le strutture ricettive abusive. Tale software ha già individuato attraverso un controllo incrociato degli annunci presenti sulle piattaforme online 500 posizioni sospette di operatori del comparto ricettivo. Nei prossimi giorni partirà la macchina organizzativa che su più livelli consentirà all'ente comunale di migliorare da un lato la qualità dell'offerta turistica e dall'altro di offrire una tutela reale e puntuale agli imprenditori del comparto turistico che operano nella legalità.